ragazzi di modellismo rc benvenuti con la prima delle nostre dirette per gli amici italiani siamo qui con lo conoscete già marco varuffolo crazy driver e marco intanto sei autore di uno dei tre best lap sotto i 40 39 set se non ricordo male 9 9 scusa ce ne due che hanno fatto meglio di te ma vabbè dai ti sei impegnato c'è meglio del solito non l'abbiamo rotta va bene raccontaci un po le tue prime impressioni della struttura della pista e tutto quanto allora innanzitutto la struttura è bellissima c'è veramente tantissimo spazio verde i box sono pulitissimi bellissimi e la pista è tre quarti di pista immensa bellissima da fare a full gas e invece c'è un altro pezzo dopo il ponte prima del transponder che è un pezzo molto più tecnico dove ci sono due tre gruppi di fila che sono molto ritmati e molto difficili da fare però insomma va bene che stai divertendo una pista fatta per te guida tutto gas abbiamo anche delle idee di gomme che stiamo utilizzando con la pista sporca così ammazzagno solo sempre quella ormai una gomma sola per sicurezza ok allora ragazzi ci vediamo più tardi con qualche altra intervista per il momento è tutto da mau e da marco ci vediamo ciao ciao